Sono Davide Moretti, Product Manager di Casio Italia, siamo qui alla fiera ISE quest'anno per presentare la nostra gamma di prodotti laser LED, in particolare il nuovo modello XJV1 della nuova serie Core. Chiediamo a Davide di farci una panoramica sulle novità di questo fantastico prodotto. Sì, nell'ultimo anno Casio ha posto molta attenzione sui suoi videoproiettori e sullo sviluppo, infatti l'anno scorso all'ISE presentavamo un modello ad ottica ultracorta UT310VN, nell'ultimo anno le novità sono state parecchie. Infatti abbiamo rinnovato completamente la nostra gamma di proiettori Green Slim e Standard, i videoproiettori formato A4, portabili, facili da installare e la serie Standard, anche quella nota per la sua luminosità. In più, oggi siamo felici di presentare anche una nuova serie, che è la serie Core, in particolare il modello XJV1, che si caratterizza per aver mantenuto tutti i vantaggi della tecnologia laser LED, integrando però una struttura ancora migliorata per quanto riguarda la resistenza alla polvere, ma soprattutto che uscirà con un prezzo molto competitivo che permetterà sempre a un numero maggiore di utenti di approcciare la tecnologia laser LED e quindi di provare questo nuovo modo di videoproiezione con tutti i suoi vantaggi, tra cui le 20.000 ore di durata, non dover sostituire le lampade, non dover sostituire i filtri, eccetera, eccetera. Dicevamo anche un'apertura a nuovi clienti potenziali della tecnologia laser LED, se capisco bene. Sì, la tecnologia laser LED, soprattutto all'inizio, si rivolgeva moltissimo a quelli che noi chiamiamo EV user, cioè a chi utilizza per molte ore al giorno il videoproiettore. Sicuramente, date le caratteristiche della nostra sorgente luminosa, tutt'oggi rimangono quelli dei nostri partner importanti, tuttavia negli ultimi anni abbiamo ampliato quella che è la base dei nostri potenziali consumatori. Innanzitutto le scuole, sia con il modello ottica ultracorta, sia poi con anche tutti i nostri modelli standard, in particolare da oggi con il V1 che permetterà anche alle scuole di maneggiare, diciamo così, con più cura il loro budget spesso ridotto. Abbiamo approcciato appunto questo mondo dell'education che sta apprezzando sempre di più le nostre caratteristiche, soprattutto per la scarsa manutenzione che il proiettore richiede e che quindi all'interno della scuola è possibile maneggiare senza la preoccupazione di rovinare la macchina. Non solo questo, ma anche le aziende, sia che installa molti videoproiettori, sia che ne installa una quantità limitata, sta andando sempre di più sul prodotto laser LED e con l'XJV1 sempre di più vogliamo andare ad approcciare questo mondo, non solo per il basso investimento iniziale che adesso è richiesto grazie appunto a questo nuovo modello e a tutte le caratteristiche della tecnologia lamp-free, ma anche per il fatto dei ridottissimi consumi energetici che le nostre macchine propongono. L'XJV1 permette di risparmiare quasi il 50% rispetto al consumo standard di un videoproiettore a lampada e questo per chi poi deve pagare la bolletta, in questo caso può essere sia chi decide di installare in casa sua un videoproiettore, ma soprattutto per le aziende che magari installano 10-20 videoproiettori nei loro uffici, in quel caso la situazione migliora davvero tanto in bolletta. Parlavamo prima di azioni di marketing a sostegno di questo nuovo prodotto, quindi quali sono i vostri progetti e le vostre proposizioni per il 2015? Allora, noi stiamo cercando di agire a livello di marketing su due livelli principalmente, uno è quello del consumatore finale e stiamo cercando di fargli imparare, conoscere cosa vuol dire lamp-free, cioè cos'è la tecnologia senza la lampada al mercurio e quindi stiamo cercando di comunicare loro quelli che sono i vantaggi più importanti, non solo la durata di 20.000 ore e quindi non dover sostituire le lampade con i relativi costi, ma anche il risparmio globale che si ha nella manutenzione del proiettore perché non devo acquistare filtri nuovi, non devo sostituire filtri, pago meno in bolletta come dicevamo, quindi un risparmio veramente a 360 gradi del TCO, quindi del Total Cost of Ownership, oltre che di altri numerosi vantaggi sempre a livello di un prodotto che non richiede stress. Se io installo il videoproiettore e devo solo concentrarmi sull'immagine che venne proiettata, non sulla macchina che lo sta facendo. Da un altro punto di vista stiamo lavorando moltissimo con il nostro distributore Sinergie e con i dealer e gli installatori, questo perché sono loro che quotidianamente sul mercato devono spiegare all'utente finale che cos'è la tecnologia lamp-free, quindi noi da una parte, i dealer dall'altra e stiamo anche con loro costruendo delle partnership sempre più forti per far sì che poi anche a livello commerciale il prodotto lamp-free sia un prodotto unico per quanto riguarda la tecnologia e quindi un buon prodotto da poter proporre all'utente come una soluzione alternativa a quello che è ormai lo standard del videoproiettore, dall'altra parte un prodotto che garantisca un'opportunità di business importante. Il prezzo del XJV1 sarà sotto i 600 euro, IVA esclusa, quindi siamo abbondantemente sotto quello che era il prezzo più basso del modello più economico della nostra line-up, che era la serie M, fondamentalmente quindi la serie standard. Un altro vantaggio che stiamo scoprendo, riscuota sempre più successo, un po' in tutte le applicazioni, sia nelle scuole, sia nelle aziende, è l'accensione rapida, lo spegneremo rapido nei nostri videoproiettori. I nostri proiettori in veramente poco tempo possono essere pronti all'uso, il V1 in 5 secondi è già la massima luminosità e altrettanto rapidamente si possono spegnere. Questo sembra un aspetto secondario, in realtà è fondamentale, pensiamo ad esempio alla scuola dove ci sono due problematiche. La prima è quella di risparmiare il tempo, te hai un'ora di lezione, se in quell'ora devi accendere e spegnere il proiettore più volte, praticamente 10 minuti di lezione, 5 minuti di lezione li butti via solamente ad aspettare che il proiettore sia pronto, invece con un proiettore del genere premi il bottone e sei pronto a fare lezione. E soprattutto spesso e volentieri i professori, il personale ATA non ha il tempo oppure si dimentica di far raffreddare la lampada prima di spegnerla. Il mancato raffreddamento della lampada può comportarne lo scoppio e quindi una sostituzione anticipata e un costo anticipato. Il nostro proiettore non ha questi rischi, è subito pronto all'uso, subito pronto a spegnersi e a riaccendersi altrettanto velocemente, per cui questa è una delle caratteristiche che sta riscuotendo più successo.